Così come l'attacco, l'inizio, il lead, l'incipit è il primo bacio, è il primo incontro con una persona sconosciuta perché voi non guardate in faccia, non conoscete chi vi legge, chi vi guarda o chi vi ascolta, così arriva il momento tragico, la chiusa. Dobbiamo dirci addio, è finita, almeno per oggi, per questa volta è finita, magari ci rincontreremo, come diceva il dottor Stranamore, da qualche parte, in qualche luogo, in qualche giorno, però per il momento ci dobbiamo lasciare. Allora come chiudere questo incontro che sempre è un articolo, che sempre è uno scritto, un libro? Dobbiamo lasciarci bene, dobbiamo lasciarci con una cosa fondamentale come alla fine di un buon pasto o alla fine di altre attività che non descriverò perché questa è una cosa per le scuole, con la voglia di farlo ancora, con la voglia di mangiare ancora, di rincontrarsi ancora, di tornare in quel ristorante e di tornare a leggere me. Quindi la chiusa deve essere maliziosa, deve essere qualcosa che riassuma un po' quello che avete cercato di dire nel pezzo. Volete dire che la guerra fa schifo, avete raccontato di violenze, di morte, di attacchi, di insensatezze, di orrore e finite con qualcosa che richiami non necessariamente in maniera identica, quello è banale, come avete cominciato, ma che richiami l'umore, che richiami lo spirito di quello che avete scritto nel pezzo. Qualcosa che sia dolce, non crudele, non uno schiaffo, non quelle copie che si lasciano con un messaggio sul telefonino, il fondo veramente del barile dei rapporti umani, ma che si lasciano dicendo che è stato bello restare con te per 60 righe, per tre minuti, per cinque minuti in televisione e ci rincontreremo ancora perché tu hai provato piacere a leggermi, ti ho, non dico insegnato qualcosa, ma ti ho intrattenuto, ti ho fatto compagnia per qualche minuto e qualche riga e tu hai fatto compagnia a me leggendomi, anche se io non ti ho visto. Quindi sempre io cerco, non è detto che sia la soluzione migliore, ma è quella che uso io, di finire non con un lungo periodo, non con una lunga chiusa, ma con qualcosa che uscimmo a rivedere le stelle, ma quello già l'hanno fatto. Però certo, quello vi dà tutta la misura come finalmente, dopo ore e ore, giorni e giorni di sofferenza, di orrore, poi di meraviglia, alla fine ci sia un sospiro di sollievo e uscimmo a rivedere le stelle. Ecco, il pezzo finale deve essere così, un cari saluti, arrivederci, siamo stati bene insieme e vi ho detto quello che penso o quello che credo di pensare, quello che credo di sapere, senza verità apodittiche, senza sentenze che arrivano dal cielo. Quindi deve essere fatto di poche parole, io amo le chiuse che appunto si fermano a pochissime parole, l'autore, vi metterete a ridere adesso, e molti studenti diranno, orrore, lo scrittore che io ho amato di più, quando finalmente mi insegnarono a leggere in latino, altri tempi, era Tacito, Tacito lo storico che in due, tre, quattro parole riassumeva tutto quello che aveva voluto dire. Quindi la chiusa, ricordatevi, deve essere qualcosa che non fa buttare via il giornale, che non fa gridare a basta, 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 ma che fa dire, chissà se nel prossimo futuro ci rincontreremo e questa donna, quest'uomo che scrivono, torneranno a raccontarmi qualche cosa, qualche cosa che mi farà sentire magari migliore, o magari migliore di lui o di lei, perché questo è un altro trucco, dice ma guarda, io sono migliore della persona che scrive. Ma l'importante è che ci lasciamo, come dice appunto Shakespeare, che ci lasciamo con la chiusa da perfetti amici.